Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo What It In A Day, il solito disclaimer iniziale e passiamo alla colazione. Quel giorno per colazione le crepes con la farina di farro, che ragazze sono buonissime, mi piacciono, dai, impazzite. Viene proprio una... con la farina di farro viene proprio una consistenza meravigliosa, perché rimangono tipo un po'... rimangono come se fossero più elastiche, non vi so spiegare. Va bene. Poi il mio solito caffè latte con caffè caldo e latte vegetale freddo e il burro di mandorle. Comunque vediamo come si preparano queste crepes, è velocissimo da fare, ragazzi. Allora, io prendo un uovo intero e un albume, poi la farina di farro in realtà vado un pochino a occhio, quindi non ho mai pesato, circa 5 cucchiai, però vedete che sono anche abbastanza scarsi come cucchiai, un po' di miele, quindi mezzo cucchiaino di miele, acqua, deve venire un composto bello liquido, cioè vedete, deve essere proprio bello liquido per fare le crepes. Utilizzo la mia piastra preferita, questa è meravigliosa perché non si attacca niente, infatti anche quando voglio cucinare le cose salate senza usare magari condimenti, questa è perfetta perché non si attacca veramente niente. Quindi, ok, faccio le mie crepes, generalmente me ne vengono circa 4, ma perché io le faccio abbastanza spesse, perché mi piace proprio mordere, avere la consistenza, ok? E vado a riempire con il burro di mandorle crunchy, questa è meravigliosa, un saporino rustico pazzesco, questo di MyProtein, vi lascio il link di tutto nel box informazioni, e lo yogurt di soia. Ragazzi, lo yogurt all'interno delle crepes sta benissimo, cioè veramente, veramente, veramente buono, 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 buono. E quindi, in piatto vado a mangiare, ah, il caffè latte era con il latte di cocco e riso, se non erro. Poi, metà mattina, ho fatto uno spuntino con questo cocomero o anguria, che dir si voglia, guardate quanto era bello rosso, super super saporito. Arriviamo al pranzo, quel giorno per pranzo ho mangiato questa piadina, e poi in realtà mi sono preparata, è quello che sto facendo un po' ultimamente, cioè mi anticipo al pranzo quello che mangerò alla sera, un po' tipo meal prep, ristretto, insomma, alla singola giornata, anche se spesso mi avanzano le cose anche poi per il giorno dopo, perché sto seguendo il corso e ho lezione fino alle nove e mezza, a dieci di sera, quindi, cioè, a quell'ora non ho voglia di mettermi poi a cucinare. Comunque, come avete visto, ho preparato i fagiolini, poi, che li ho cotti semplicemente al vapore, poi, questi sono fagiolini al metro, che io taglio a pezzetti e faccio cuocere con un po' di acqua, olio e sale, con i pomodorini, mi piace da impazzire, e poi sono andata a fare una sorta di peperonata al forno, ok, con le verdure che avevo, quindi zucchine, peperoni, melanzane, un po' di zucchine e me le sono fatte cuocere così in padella, in modo super easy, per la piadina. Intanto qui si erano preparati i fagiolini, che, come dicevo, faccio cuocere al vapore con una pentola meravigliosa, ve la lascio nel box di informazioni, è super super comoda, quindi le ho condite con olio e sale, poi vado a tagliare il resto delle verdure, quindi, appunto, i, come dicevo, i peperoni, le melanzane, e così almeno nel frattempo che io mangio, questi si cuociono in forno, insomma, cerco di ottimizzare un pochino i tempi in questo modo. Le ho condite semplicemente con olio e sale, e quindi vado a mescolare, metto su una teglia con la carta forno, e io questi li lascio cuocere a 180 all'inizio e poi passo a 200 finché non vedo che sono cotti, quindi vado a occhio. Nel frattempo mi preparo la mia crema di cannellini, che ho fatto, appunto, con i fagioli cannellini. Di nuovo il burro di mandorlecranci, ma perché, ragazzi, ha un sapore proprio meraviglioso. Comunque, peperoncino, olio, sale, acqua, non troppa l'acqua, aggiungetela un po' per volta, perché dipende anche dalla durezza del legume, insomma. A me piace che venga abbastanza consistente, si fa sempre in tempo ad aggiungere altra acqua, insomma, però se viene troppo liquido a me non fa impazzire. Comunque, faccio scaldare una di queste piadine sfogliate al camut, buonissime, buonissime, mi sono piaciute proprio tanto. Appunto, metto l'humus, le zucchine, i cartufini sott'olio e un po' di fagiolini. Chiudo e si mangia. Il mio pranzo è stato questo, poi ho finito l'humus, ho mangiato altri due fagiolini, insomma, così. Metà pomeriggio, circa, ho fatto uno spuntino con il caffè e la Carp Crusher, anche perché, come vi dicevo, devo poi tirare fino alla sera, verso le nove e mezza, dieci, prima che mangio, insomma. E finalmente arriviamo alla cena, dove ho preparato, ho dovuto solo impiattare e scaldare il seitan, appunto, super, super easy. Quindi questa era la peperonata, quelli erano quei fagiolini al metro, come vi dicevo, fagiolini al metro, fagiolini metro, ok, che faccio cuocere con il pomodorino. E questo è il seitan, questo tipo non era, ma non male, lo faccio scaldare semplicemente sulla piastra, cioè in padella, senza neanche olio, né sale, niente. Quindi super easy, quella è stata la mia cena, un po' di pane. E poi, dopo cena, ragazzi, era la prima volta che l'assaggiavo, quindi l'assaggio l'ho dovuto riprendere, tipo similcoppa del nonno, però della Valsoia. Molto buona, non è esattamente identica a quella originale, però è molto, molto, molto buona, almeno a me è piaciuta un sacco. Mi è piaciuta più questa rispetto agli stecchi cocco e cioccolato. Questa per me merita un pochino di più. Comunque, io vi ringrazio come sempre per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!